Sono molto orgoglioso di far parte di questa organizzazione. Chiunque abbia giocato in Italia conosce Cantù e sono molto felice di far parte di questo club. La prima impressione è davvero ottima. Tutti finora sono stati splendidi. Stiamo andando al ritmo giusto e quanto ho visto finora, dalla direzione a tutto il personale, mi ha davvero impressionato. Niente obiettivi personali, solo un obiettivo di squadra, cioè semplicemente vincere. E' quanto i tifosi si aspettano e io sono venuto per vincere. Alla mia età e con la mia esperienza, se non vinci non sei contento. Dunque, quanto mi interessa adesso è aiutare la squadra in ogni modo e spero di poter essere una forza positiva in questo senso.